Il risultato dei fondaggi nella nostra regione è critico e preoccupante, così come in tutta Italia. È inutile nasconderlo, attualmente però non siamo ancora in una situazione di emergenza totale. È vero che gli ospedali sono sotto forte pressione, ma vorrei ricordare che in primavera avevamo numeri ben diversi rispetto ai ricoveri. Ad aprire siamo arrivati quasi a 80 pazienti in terapia intensiva, ma nonostante tutto siamo riusciti a far fronte all'impatto della pandemia. E ce la faremo anche questa volta, perché in questi mesi abbiamo messo in piedi un sistema in grado di assorbire l'urto dell'emergenza con un potenziamento consistente della rete ospedaliera. Va ricordato che il commissario Alcuri ha nominato il presidente Marsiglio, quale soggetto attuatore del nostro piano Covid, solo il 9 ottobre scorso. Nonostante questo però abbiamo provveduto nel frattempo ad attivare 25 posti di terapia intensiva aggiuntivi, a fronte di un totale di 66 programmati. Gli assi saranno pronti in poche settimane, non appena saranno concluse le procedure di legge. Nel frattempo è stato previsto l'eventuale coinvolgimento delle case di cura private, così come stabilito dalla normativa nazionale già da marzo. Le cliniche entreranno a supporto nel momento in cui malauguratamente dovessero esaurirsi posti letto negli ospedali pubblici e lo faranno, tengo a ribadirlo, senza alcun aumento di budget loro assegnato, così come è previsto dalla legge. In una situazione così complicata come quella che stiamo attraversando, chi ha responsabilità istituzionale ha il dovere di prevenire qualunque scenario, anche più nefasto, perché nessuno di noi possiede doni divinatori ed è in grado di fare previsione sull'andamento dei contagi. Per questo motivo non dobbiamo farci trovare impreparati, così come abbiamo fatto nella prima fase della pandemia, anche perché stiamo cercando di mantenere in funzione in tutte le ASS anche l'attività chirurgica ordinaria, che invece in primavera era stata bloccata. Per quanto di competenza regionale, cercheremo di evitarlo in tutti i modi, finché sarà possibile, perché siamo consapevoli delle difficoltà che questo comporta per gli utenti. Certo, mantenere in funzione anche gli altri servizi sanitari comporta un'ulteriore pressione sugli ospedali, ma il nostro obiettivo è quello di tentare fino all'ultimo di non sospendere nulla.